Ciao a tutti creativi e creative! Oggi nuovo tutorial sui fiori 3D. Oltre a essere semplici decorazioni per la casa, possiamo vedere come utilizzarli diversamente. Vi ricordo che nelle informazioni del mio canale trovate tutti i link utili per potermi seguire sugli altri social. Quante volte vi capita di avere dei piccoli pezzi di stoffa e non sapere cosa fare? Con questo tutorial potete utilizzarli. Io ho creato dei cartamodello a forma di petalo, di tre misure differenti. Si possono disegnare facilmente a mano libera. Questo è quello più grande. Poi abbiamo questo intermedio. E infine quello più piccolo. Quello che dobbiamo fare ora è piegare la stoffa faccia con faccia. E ricopiare per ogni petalo cinque pezzi. Bloccare poi la stoffa con uno spillo e ritagliare lasciando qualche centimetro, oppure un centimetro, per la cucitura. Ecco quello che dobbiamo ottenere. Io ho utilizzato due tipi di stoffe differenti e ho fatto il petalo grande tinta unita, il petalo intermedio a pua e il petalo piccolo di nuovo tinta unita. Ovviamente quando andate a crearlo, mi raccomando, scatenate la personalizzazione e la fantasia. Ora dobbiamo passare ogni petalo a macchina per tutto questo contorno e lasciare il punto di apertura alla base in modo da poterli girare. Passiamo a macchina lasciando lo spillo, per evitare che due pezzi di stoffa possano spostarsi. Girare ora tutti i petali in modo che possiamo inserire l'imbottitura e andare a chiudere il punto di apertura. Una volta imbottito ogni petalo, può essere chiuso il punto di apertura sia a mano con qualche punto, quindi anche esternamente perché tanto non si vedrà, oppure ripiegare all'interno e passare a macchina. Siccome io ho provato tutti e due i modi, credo sia meglio non ripiegare la stoffa all'interno ma dare qualche cucitura esternamente in modo che abbiamo più stoffa per poter unire i petali. In questo caso, visto che la base viene così piatta, ho deciso di stringere petalo per petalo in modo da far venire questa forma un po' più rotondeggiante. Fatto questo, non resta che cucire insieme i 5 petali grandi, i 5 petali medi e i 5 petali piccoli in modo da ottenere 3 strati e successivamente andranno incollati uno sull'altro. Adesso con un piccolo pezzo di stoffa andiamo a formare una pallina, inserendo all'interno un po' di imbottitura e chiudendo. Questo sarà il centro del fiore. Armiamoci ora di colla a caldo e andiamo a unire i 3 strati. Ovviamente potete creare anche degli strati più grandi fino a formare un cuscino. Una volta finito il tutto potete decorarlo con brillantini, perline e usarlo per diversi scopi. Possono essere decorazioni per la casa e perché no anche decorazioni per auto, ad esempio messi sul cruscotto. Può essere cucito un asciugamano per usarlo in cucina oppure nel bagno. Oppure cucito un sacchettino abbinato per usarlo come un portabuste. Se fatto ad esempio con una stoffa di seta bianca può essere anche un bellissimo portafedi. Se vi è piaciuto questo tutorial e questa idea mi raccomando mettete i pollici in su. Come sempre vi ringrazio per la visione e alla prossima! Grazie a tutti!